l'atterraggio non dei migliori per Nicole Hilbert nel volteggio 14 spaccato la valutazione per l'atleta della Gran Bretagna adesso vediamo nuovamente Federica Macri anche per lei in questa rotazione l'esercizio è quello del corpo libero Federica Macri Triestina abbiamo già detto che ha partecipato ai campionati mondiali nel 2007 a Stoccarda ha ottenuto un buon quarto posto con la nazionale italiana a Pechino è arrivata decima nel concorso a squadre con il body azzurro lei è entrata primo su cara quindi iniziamo a vedere delle difficoltà di spessore veramente molto importante ha fatto adesso 540 gradi di evitamento prosegue l'esercizio bene, lei è una specialista ha scelto un programma decisamente difficile possiamo dire è il suo programma, lei sguazza bene diciamo così al corpo libero e bravissimo prosegue il suo esercizio Federica Macri ricordiamo che prima delle Olimpiadi di Pechino lei proprio a questo attrezzo durante una gara di Serie A si è infortunata gravemente con la rottura del Tempo Achilla recuperato in tempi incredibili per le Olimpiadi e adesso è di nuovo qui con noi brava Federica applausi anche per Federica Macri